Welcome to Sardinia, today we are in this beautiful island very well known for the fabulous sea but today we're gonna discover something that is behind the sea and the beaches that you everybody used to enjoy is the whiteness of Sardinia and today we are here with Walter and Sara. Welcome to Martis Pierina. So Martis, we are in the north west side of Sardinia, it's a tiny town with 480 people, it's a enchanting churches, a beautiful landscape and of course Binzamanna. Walter, what does it mean Binzamanna? Binzamanna in sardo means big vine. I asked Walter what is the meaning of the word Binzamanna that it's the name of the winery and the meaning is big vineyards because all this area in the north west side of Sardinia used to be vines. In the 70s the government offers some money to the farmers to estimate the vines in order to sell the rights to make wine to other region in Italy. So now Binzamanna is the only winery left in the area. Cosa avete trovato quando siete arrivati qui? Abbiamo trovato un albero di ficchi, una quercia e un vecchio vigneto abbandonato. Cosa avete fatto? Abbiamo recuperato dei cloni di vecchi vigneti. Cosa avete trovato? Abbiamo sempre amato questa parte della storia perché quello che hanno fatto è che hanno chiesto di sicurezza che si plantarano e ristrano il crescente di vecchi cloni di Vermentino, Cannonao e Cannulari. In questo caso sono un'intera donna di sottotitoli e attacciono lì le colour della scuola in Italia. Cosa c'è un cloni differente ciascuno di uguali. Che è stato in questo momento trovano realmente quello che era il più vecchio e indigénoso cloni di Vermentino, Cannonao e Cannulari. e hanno sfruttato la planta per ripensare. Una delle cose che mi piace davvero quando vengo a visitare Binzamanna è che si senti qui e si senti il vento. Questo vento naturale non è solo un piacere per noi visitare, ma al stesso tempo aiuta Walter e Sara a farmi organicamente. La differenza della temperatura tra la notte e i giorni aiuta con la maturazione delle caratteristiche a un punto perfetto. In che senso il vermentino qua viene in maniera diversa? Perché il terreno è calcareo e argilloso. Il vermentino qui ha clai e limestone come terra e puoi anche trovare un po' bianco e fossile. La combinazione più il vento e l'escorzione della temperatura è un vermentino con una buona complessità, ma una grande minerale. Molto interessante che si tratta solo in una parte del nord-westo di Sardegna è una varietà che si chiamano Cagnullari. C'è molta legenda per la Cagnullari, perché nessuno ha ascoltato la possibilità di avere la stessa vina con la stessa DNA, ma con due versioni. la versione delle Cagnullari e delle Cagnullari. Sì, è quello che distinguiamo qua tra Cagnullari maschi e Cagnullari femmine. Sì, si sa come parlare sardegno, ma non lo so. Sardegna è molto autentica. Quindi il tipo di alimentazione che potete trovare qui non solo sui fissi eccellenti sui costi, ma sui fissi iniziali sono molto tipici e hanno loro origini nella zona farmale. ed è un tipo di riflessione, che potete trovare quando si tratta da un'altra parte della costa all'altra parte. e finalmente per il vino. Iniziamo con la Ares, la Vermentino. È molto elegante, con le nostre bambini, con le 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 bambini, che hai da inizio. Abbiamo la Rentele, con le canonelle. C'è un bel 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 bel. C'è un bel bel bel. C'è un bel bel bel. C'è un bel 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 bel. Il canonelle non ha la concentrazione, ma la legge. C'è un bel 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 bel. Il bel 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 bel. e quindi il penonelle ha una parata регmount Canulari e un piatto che si tratta di una virginia e quindi ha un bel 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 bel. Guarda la implicina di un'inaica dioscete del pay, con le 요di, che s'ensate di scaricione. e finalmente il Cagnullari, è una crema con molti misteri di legenda e di legge. Il naso sicuramente ha plums e red berries. In la paletta è un vino molto buon vino, ma sempre ha la minerality che è tipica di il vino di Bizzamanna. Lo che mi ha fatto è che ho una percezione quasi di un vino dell'Oped Age, ma in realtà è solo stendente. E questa è la bellezza di drinking Cagnullari di Bizzamanna. Grazie. Grazie.